Qua di, no, qua, qua, qua dicono che d'ora in po, che d'ora in po, po, nelle action figure? DAI GAZZO! Togneranno le armi ai personaggi! Perché hanno scritto un articolo sul giornale? Andale? Ah, e l'ale? Ah, tanto noi non abbiamo problemi! Siamo kaiju! Noi on, ush di aiju! Noi, siamo cacca! Noi spariamo raggi! Parla per te! Il mio potere è quello di appellottolarmi come un papà! Eh 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 eh! Papà! Oh, aiuia! Aiuia! Oh, aiuia! Hanno rimosso il mio cazzo e non riesco a muovermi! Anguirus? Sì! Solirus? Sì! Mirus? Sì! Il tuo nome assomiglia ad anguria, la coca è lunga, il mosse è mano, il tuo nome è mano, il mosse è assomiglia ad anguria, la cosa mi puzza un sasso. Mia moglie è caduta dalle scale! Ma che cazzo me ne frega!